Il Comune cerca sul mercato Una buona giornata dalla nostra redazione Ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato 5 milioni di euro messi a disposizione della regione toscana per un progetto pilota che si svolgerà a Prato dove l'edilizia pubblica pratese acquisterà sul mercato libero edifici da destinare poi agli alloggi popolari Il bando scade il 14 settembre Un bando pubblico per acquistare sul mercato libero alloggi da destinare all'edilizia popolare È quello uscito oggi in scadenza il 14 settembre per mettere a frutto i 5 milioni di euro che la regione toscana ha erogato alla provincia di Prato per aumentare già da giugno 2019 la disponibilità di case popolari Attualmente sono 1800 gli alloggi di edilizia pubblica già assegnati ma ne occorrerebbero altrettanti per soddisfare il fabbisogno totale dei sei comuni pratesi Noi abbiamo praticamente 1800 persone in lista d'attesa per quanto riguarda le case popolari e abbiamo attualmente oltre 600 persone in emergenza alloggiativa quindi un numero molto elevato alle quali diamo risposte parziali per dire la verità Ecco perché l'iniziativa che viene fatta in questi giorni dalla regione toscana, dal comune di Prato e dai PPP va in questa direzione Al bando può partecipare chi ha interi fabbricati o porzioni di edifici con entrata autonoma senza spese condominali, con locali accessori e posti auto esterni Gli immobili al momento del rogito non devono essere gravati da ipoteche o mutui e il prezzo massimo riconoscibile a metro quadro di superficie è pari a 1828 euro per gli alloggi terminati prima del 31 dicembre 2015 e di 1844 euro per quelli terminati dopo questa data Il bando siccome è necessario disporre di alloggi rapidamente privilegia edifici indipendenti, piccoli o grandi quindi non assolutamente appartamenti isolati, alloggi isolati sono stabiliti due tipi di punteggio un punteggio tecnico che risponde a caratteristiche obiettive e un punteggio qualitativo con criteri che la commissione giudicante si darà e che sono però già esplicitati nel bando il tipo di criteri poi la terza variabile è il ribasso sul prezzo massimo che la regione ci accorda di poter spendere Si possono mettere a disposizione anche edifici da terminare a patto che i lavori non richiedano più di sei mesi di tempo Lavori al di sopra dei 40.000 euro e spese notarili sono a carico dell'offerente L'iniziativa si propone di tamponare due problemi annosi da una parte la carenza di case popolari dall'altra la presenza sul territorio di edifici per varie ragioni non portati a termine veri e propri scheletri che spesso diventano bombe a orologeria del degrado sociale e basti pensare all'ex valore di via Filzi Purtroppo nel corso del tempo l'edilizia è stata una dei settori che più di ogni altro ha sofferto la crisi probabilmente il settore che è ancora dentro ha una fase di difficoltà per quanto i dati sugli acquisti di nuovi immobili delle case stiano dando qualche segnale di movimento ma ancora in grande difficoltà l'idea è che questi scheletri, questi immobili non finiti sparsi per la città possono essere riqualificati e gli possa essere donata nuova vita è uno dei pezzi e ci ha convinto ad andare in questa direzione Un uomo di 60 anni si è infortunato cadendo nei boschi sopra Gavigno l'incidente è avvenuto ieri mattina verso le 11 in una zona impervia inaccessibile con i mezzi di soccorso sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la misericordia di Vaiano inviata dal 118 l'uomo che nella caduta si è procurato la frattura di una caviglia è stato recuperato con la tavola spinale ed è stato poi trasportato fino alla strada principale per essere trasferito in ambulanza all'ospedale Santo Stefano di Prato Agosto, tempo di vacanze tra le scelte più gettonate dei pratesi per l'estate 2018 il bacino del Mediterraneo con una netta prevalenza per le isole greche, spagnole, le mete italiane ma anche l'America e l'Oriente Mediterraneo con l'Italia in testa, seguono poi la Grecia e la Spagna ma non mancano le mete lontane come l'America, l'Oriente e il Nord Europa e poi ancora le crociere sono le scelte più gettonate dei pratesi per l'estate 2018 dati delle agenzie di viaggi del territorio alla mano il trend anche quest'anno sembra essere positivo grazie alle tante offerte presenti per tutti i gusti e tutte le tasche i pratesi vanno in vacanza e sinceramente si stanno muovendo tutti chi per tempo, chi un po' all'ultimo minuto come tutte le stagioni scelgono destinazioni tra le più disparate perché si passa dall'Oriente con Bali, con il Giappone qualcuno, la Tailandia che viene sempre riproposta tutti gli anni a mete più vicine nel Mediterraneo la Grecia sicuramente quest'anno spopola ma devo dire anche l'Italia che tutti gli anni ci dà delle belle soddisfazioni e poi chiaramente l'America non manca mai l'area caraibica è sempre molto molto amata dai pratesi e dagli italiani in generale ci sono viaggi per tutte le tasche quelli più lunghi sinceramente, chiaramente hanno voli più lunghi tempi più lunghi di soggiorno e quindi hanno dei prezzi più alti rispetto a un Mediterraneo diciamo che la fattibilità del Mediterraneo è talmente varia dal villaggio all'appartamento all'albergo che chi vuole viaggiare trova sempre una soluzione per tutte le tasche è tutto il bacino del Mediterraneo per cui tutta la Spagna, la Grecia e le mete anche più lunghe per cui America, Sudafrica, Seychelles abbinata a Seychelles, sempre anche Mauritius viaggi di nozze a Australia c'è sicuramente un ritorno dell'agenzia di viaggi le vacanze spesso vengono fatte e purtroppo una volta soltanto l'anno e quella volta l'anno le persone hanno voglia comunque di sicurezza di certezza e di affidarsi a chi appunto lo fa come un lavoro c'è chi preferisce affidarsi ad un'agenzia di viaggio per organizzare al meglio il proprio soggiorno e chi invece opta per il fai da te quest'anno andrà in vacanza? fortunatamente sì, a Copenaghen si partirà i sette e una decina di giorni si fa a Copenaghen e poi ci si sposta verso Billund siamo io e la mia ragazza, abbiamo organizzato ci siamo organizzati per conto nostro diciamo con internet può fare tutto ormai è difficile che ci appoggiamo anche per le vacanze all'agenzia proprio per avere un'idea, per guardare ma se no si fa sempre di solito per conto nostro si rivolge di solito all'agenzia? fa da solo? no, no, sempre da solo io, sempre da solo quest'anno Sicilia, in macchina sarà una bella sparchinata quindi insomma cambia comunque tutti gli anni? sì, 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 di solito andava a San Vincenzo e si sta bene a San Vincenzo però quest'anno non sapevo di luglio, agosto allora agosto Sicilia Estra SP ha acquisito il 12% di Ecolat SRL la società attiva nel settore dei servizi ambientali nel ciclo dei rifiuti in Toscana titolare di un impianto di selezione e trattamento dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate multimateriale dei comuni nelle province di Grosseto, Arezzo, Prato e Firenze l'acquisizione consente ad Estra di entrare per la prima volta nell'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti ritenuta strategica per la crescita e rafforzamento del gruppo nell'ottica in misura crescente di ruolo di multiutility e ci spostiamo in provincia sono esposte tra Vernio e Montepiano 50 opere di 5 maestri del Novecento che segnarono con la loro presenza una stagione di grande vivacità culturale nella Val di Bisenzio sentiamo c'è una stagione eccezionale in cui Montepiano e la Val di Bisenzio diventano punto di riferimento luogo di vita e d'incontro di un gruppo di protagonisti della grande arte del Novecento è la stagione degli artisti raccontata dalla collettiva evento dell'estate 2018 inaugurata sabato scorso all'Oratorio dei Bardi esposte tra Vernio e Montepiano 50 opere di 5 artisti che segnarono con la loro presenza una stagione di grande vivacità culturale nella Val di Bisenzio con la mostra estiva consueta che il Comune organizza tutti gli anni abbiamo proprio voluto omaggiare un gruppo di artisti che ha soggiornato villeggiato e vissuto a Montepiano probabilmente i momenti più intensi e più importanti della loro carriera e si tratta di primo fra tutti ovviamente Bruno Saetti che acquistò il Mulino del Sole e ne fece la sua residenza d'arte prediletta il maestro Breddo Burattin e il maestro Bertacchini che veniva da Bologna da Dozza proprio in villeggiatura a Montepiano con la famiglia e che aveva avuto modo di rappresentare i luoghi più belli della vallata proprio nella sua arte e poi in conclusione Virgilio Mazzetti che ha avuto i Natali proprio nella frazione di Montepiano alla Badia quindi un omaggio a questi cinque artisti un omaggio alla frazione di Montepiano e alle ispirazioni artistiche che ha saputo dare La mostra promossa dal comune di Vernio in collaborazione con l'associazione Terrena e con le famiglie degli artisti si snoda tra Vernio e Montepiano con gli allestimenti dell'Oratorio di San Nicolò della Galleria di Palazzo Bardi di San Quirico di Vernio e quelli del ristorante Il Ponte e della Cappella delle Suore Carmelitane a Montepiano La stagione degli artisti memorie e visioni di Bertacchini Breddo Burattin Mazzetti Saetti resterà aperta fino al 12 settembre Una trebbiatrice dei primi del Novecento e un antico mulino a pietra ancora funzionanti sono stati i protagonisti della quarta festa della battitura che si è svolta lo scorso fine settimana a Vernio Una manifestazione giunta alla quarta edizione per far conoscere e rinnovare un'antica tradizione contadina La festa della battitura è tornata lo scorso weekend nella piazza del comune a San Quirico di Vernio organizzata dal Circolo Stella Rossa in collaborazione con aziende agricole del territorio Valbisentino Protagonista della battitura del grano una bellissima macchina terbiatrice dei primi del Novecento a cui quest'anno si è aggiunto un antico mulino a pietra funzionante Abbiamo portato un mulino a pietra per far vedere la macinatura di grano una macina che è stata data dal museo Casa Delci di Grezzano al Lugo di Mugello e l'abbiamo rimontata con l'occasione per far vedere la macinatura di grano veramente a pietra come era una volta Alla buona riuscita della manifestazione hanno collaborato diversi agricoltori e allevatori Sono contento che molti giovani si sono ravvicinati a questa antica tradizione Finito la battitura il cicloacci ha organizzato un pranzo una volta a base di papere umido Le ricette toscane hanno caratterizzato i pranzi in piazza per il pane per il pane è stata usata la farina macinata al mulino dei fossi di Vernio uno dei pochi mulini in pietra della zona ancora funzionanti Come sempre ora di due o tre anni ci si ritrova a Vernio per fare questa battitura semplice tra amici ci si mette un po' di passione insomma e tutto procede bene Ed è il momento delle previsioni del tempo ci colleghiamo con la sala meteo del Consorzio Lama per tutti gli aggiornamenti del caso Guardate Un saluto a tutti lo vediamo dalle immagini da satellite alta pressione in deciso rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale temperature in progressivo aumento a partire dalla giornata di oggi Ecco la previsione per il pomeriggio cielo prevalentemente poco nuvoloso qualche temporale atteso sull'Appennino Tosco Emiliano e sulle Aquane con venti di brezza fino a moderati di maestrale sulla costa centro-meridionale uno sguardo a quello che ci attende domani cielo prevalentemente sereno in mattinata qualche addensamento nel pomeriggio soprattutto su rilievi e temperature in ulteriore lieve aumento punte massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne di pianura bene è tutto vi ringrazio l'attenzione e vi auguro la buona giornata e questa era l'ultima notizia il telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato e per questa sera alle 20.30 grazie per averci seguito arrivederci grazie per averci seguito